Hazel Hazel non si era mai sentita così felice. Beh, tranne forse la notte del banchetto della vittoria al Campo Giove, quando aveva baciato Frank per la prima volta. Ma ci andava vicino. Non appena a terra, corse da Arion e gli gettò le braccia al collo. «Mi sei mancato!» Premette il viso sul fianco caldo del cavallo, che profumava di salsedine e mele. «Dove sei stato?» Arion mi trippiano. Hazel rimpianse di non saper parlare il cavallese come Persi, ma colse lo stesso il senso generale del messaggio. Arion sembrava impaziente, come a dire «Non è il momento per i sentimentalismi, ragazzina! Andiamo!» «Vuoi che venga con te?» L'animale ciondolò la testa, pestando gli zoccoli. Nei suoi occhi bruni luccicò un'espressione d'urgenza. Hazel non riusciva ancora a credere che fosse davvero lì. Il cavallo magico era in grado di correre su ogni genere di superficie, perfino sul mare. Ma lei aveva temuto che non li avrebbe seguiti nelle antiche terre. Il Mediterraneo era troppo pericoloso per i semidei e i loro alleati. Non sarebbe venuto, se lei non si fosse trovata in serie difficoltà, e sembrava agitato. Qualunque cosa riuscisse a intimorire quel cavallo temerario, avrebbe dovuto terrorizzarla. Invece era sollevata. Era così stanca del mal di mare e del mal d'aria. A bordo dell'argodù e si sentiva una zavorra. Era felice di trovarsi di nuovo a terra, anche se era il territorio di Gea. Era pronta a cavalcare. «Hazel!» chiamò Nico, dalla nave. «Che succede?» «Va tutto bene!» Hazel si accovacciò ed evocò una pepita d'oro. Stava diventando più brava a controllare il suo potere. Non capitava quasi più che le pietre preziose le spuntassero intorno per sbaglio, ed estrarre l'oro dal terreno era facile. Diede la pepita ad Arion. Era il suo spuntino preferito. Poi rivolse un sorriso verso l'alto a Leo e Nico, che la osservavano da 300 metri di altezza, in cima alla scaletta. «Arion vuole portarmi da qualche parte!» I ragazzi si scambiarono uno sguardo nervoso. «Ehm...» Leo indicò verso nord. «Per favore, dimmi che non vuole portarti là!» Hazel era così concentrata su Arion che non aveva notato la perturbazione. A un chilometro di distanza, sulla cresta della collina successiva, una tempesta si era addensata sopra delle rovine di pietra, forse i resti di un tempio di una fortezza romana. Un tornado di nubi serpeggiava verso la collina, sinuoso come un dito nero d'inchioso. Ehm...» Hazel avvertì un sapore di sangue in bocca. Guardò Arion. «Vuoi andare là?» Il cavallo nitrì, come a dire «Ovvio, dove se no?» Beh... Hazel aveva chiesto aiuto. Era questa la risposta di suo padre? Sperava di sì, solo che percepiva qualcosa di diverso da Plutone all'opera in quella tempesta. Qualcosa di oscuro, potente e non necessariamente ben disposto. Tuttavia, era la sua occasione per aiutare gli amici, per dare una direzione, anziché limitarsi a seguire. Strinse meglio la cintura della lunga spada d'oro imperiale e salì in groppa ad Arion. «Me la caverò!» gridò ai due ragazzi. «Voi aspettatemi qui!» «Aspettarti? Per quanto?» chiese Nico. «E se non torni?» «Non ti preoccupare, tornerò!» promise Hazel, augurandosi che fosse vero. Spronò Arion e si lanciarono nella campagna, puntando dritti verso il tornado in arrivo.